Presidente, ultima chiamata per il settore del gioco pubblico, chiuso da più di 300 giorni. Giugno potrebbe essere troppo tardi per riaprire. Noi sappiamo perfettamente quali sono i problemi che ci stanno angosciando e che non ci fanno dormire la notte. Cerchiamo di vedere cosa può succedere. Può succedere che la finestra di riapertura del 2 giugno è alle porte. Può succedere che l'autorità politica di riferimento nostra comprenda che da un punto di vista tecnico noi abbiamo dei protocolli di sicurezza inecitibili e che condivida questo con i tecnici che si mettono a disposizione della politica che fanno parte del CPS. Vediamo se si riesce a individuare nel prossimo provvedimento il giusto presupposto per poter riaprire il gioco. Inutile che stiamo a ripeterci quanto sia vitale che ciò accada e quanto questo sia in piena sicurezza sia per i lavoratori che per i tecnici. Grazie Presidente.